Presidente Serracchiani, siamo qui a Cave del Predil per verificare gli interventi per mettere in sicurezza il comprensorio. Di che cosa stiamo parlando? Intanto è uno degli interventi contro il dissesto idrogeologico più importante che in questo momento stiamo attuando in regione, sono circa 3 milioni e mezzo di lavoro. E' un intervento importante da un lato perché mette in sicurezza appunto quest'area e dall'altro perché è un intervento anche per limitare quelli che sono i danni ambientali della cava che una volta era qui e che ancora continua a dare qualche problema e quindi in questo modo mettiamo in sicurezza i materiali che ancora sono depositati qua in loco e che non entrano quindi nella falda. E quanto tempo durano i lavori? Beh intanto sono partiti come vedete già in modo spedito, stiamo utilizzando dei macchinari estremamente importanti anche perché si tratta di mettere dei pali fino a 9 metri di profondità e se tutto va come deve andare il clima ci sostiene e dovrebbero finire presto.